ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disinscatolamento di welcome to dinner world un gioco da tavolo ideato da james o'connor con david turchi e nick show illustrato da sabrina miramon e beth sobel lo pubblica la casa editrice ellicott games ed è un gioco a tema parchi di dinosauri roll and write quindi tira e scrivi disegna ruggisci e segna addirittura il sill of approval di dice tower pubblicato tramite kickstarter è stato arrivere in italiano grazie a ms edizioni abbiamo un'immagine di come si presenterà con carte visitatori carte strutture carte laboratorio la il foglio personale su cui disegnare recinti animali generatori quant'altro ecco le icone classiche dei giochi da tavolo 175 giocatori 40 70 minuti la durata 12 più l'età consigliata con due modalità di gioco quella semplice e la modalità pericolo abbiamo una misurata alla scatola e poi la apriamo allora misura 18 e mezzo per 23 centimetri e una profondità di 4 centimetri e mezzo andiamo ad aprire e controlliamo il contenuto i componenti devono essere abbastanza semplici sia da fogli d'alio e carte qui intanto abbiamo matite le matite insomma normali matite in legno cilindriche la gomma per cancellare 3 da di bianchi a pallini misurano 16 mm qui abbiamo il mazzo di carte vediamo con quanta facilità si apre ottima direi allora queste sono le strutture poi abbiamo i laboratori i visitatori ok la carta visitatore non è altro che un contratto una richiesta insomma se si soddisfa questa carta si fanno tanti punti le richieste possono essere più o meno complesse e quindi dare più o meno punti si va da numero di strutture numero di animali un certo tipo di percorso delle vicinanze il massimo punti il massimo punti ottenibile sono 10 punti a carta le carte impaiono abbastanza standard abbiamo misurato tanto per esser sicuri sono 63 per 88 poi le strutture che si può aggiungere al proprio al proprio parco montagne russe piattaforma panoramica l'area picnic un albergo negozio souvenir teleferica postazione dei ranger incubatoio unità di contenimento zona pericolo e la fattoria didattica hanno anche queste le loro icone i loro punteggi e quello che è richiesto sotto come vincolo di costruzione e poi il punteggio con cui con cui premiano il giocatore infine abbiamo dei laboratori sono di tre tipi x y e z hanno la possibilità una tantum di fare quello che che c'è scritto sotto vanno da modificatori di dadi a poter costruire superando certi vini vincoli trasformare i percorsi aggiungere entrate e così via poi abbiamo il regolamento che ovviamente è in inglese qui abbiamo tutti i materiali visti più o meno finora tranne che la gomma è diversa questi sono qua sotto dobbiamo ancora vederli e questi qua saranno oggetto di altri unboxing il resto non manca su bgg è disponibile la traduzione ufficiale italiana e come già detto arriverà comunque localizzato completamente da ms edizioni infine i fogli giocatore eccoli qui in cui c'è il parco con due ingressi un lago al centro ci sono vari indicatori di generatori tracciati dei dadi il tracciato pericolo qui le indicazioni sulla costruzione degli dei recinti per le varie specie i percorsi che sono disegnabili i tipi di strutture le azioni per la sicurezza questi sono i laboratori di cui abbiamo visto prima le carte e poi qui c'è c'è un prospettino con le varie fasi della modalità pericolo che è quella più di maggior peso e poi qui abbiamo tutte le categorie da punteggio regolari e bonus per arrivare il gran totale che darà il vincitore bene non ci resta che giocare un numero sufficiente di partite e recensirlo sui giochi sul nostro tavolo vi ricordo come sempre che potete mettere un mi piace qui sotto e qui c'è il tasto per iscrivervi al nostro canale ciao ciao ciao